Qualcosa di veramente unico, posso dare anche le grazioni, vi ragione un applauso? Ecco l'arrivo di questo, la meravigliosa, il stupendo, venta, che con la sua scia lascia una traccia, una croce che diventa nel ricordo di tutti, in questi momenti, in questo Natale, meraviglioso, Babbo Natale, veramente un'immagine che lascia stupire, soprattutto i bambini, coloro ai quali, sinceri, e dubbi, come angiolenti, sentono il gusto, veramente questa presenza, un uomo veramente forte. Facciamo un applauso, tutti insieme, ringraziamo la buona pregazione, e non finisce l'omai di stupine, perché è da sempre un toto magistrale. In testa sono tratticolati, non siamo grati. Questa presenza è squisita, però, di stadio di ospedale, ricordiamo tutti, anche questo momento non più inizio, vi consiglio veramente, veramente, di ricordare che è la buona. Grazie a te, grazie. E quindi, l'intiderario prosegue. Grazie a te, grazie. Grazie a te, grazie a te. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.